Un'altra giornata di lavoro Amici di YouTube, benvenuti alla corsa più pazza del mondo e adesso sono in competizione aiuto, scusate ecco, mi sono dovuto infilare nella postazione siamo nella corsa più pazza del mondo io contro la signora Maria e il signor Paolo pure sono pronto per correre accendiamo qui e via e via Noi, noi, noi. Noi, noi, noi. Noi, noi, no. Noi, no, no. Noi, no, no. Noi, no. Noi, no, no. Noi, no, no. Noi, no, no.